Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini, le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Piccole imprese, trasporto studenti e attività culturali. Sono questi i tre settori di intervento nei quali l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso di investire l'economia realizzata nell'ultimo anno. Risparmi che ammontano a più di 800 mila euro ottenuti grazie alla riduzione delle spese complessive dell'attività del Consiglio, ai minori costi per il personale, gruppi politici, organismi interni e a maggiori entrate. Il dettaglio degli interventi è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Presenti il Vice Presidente del Consiglio Paolo Gatti, il Consigliere Segretario Giorgio D'Ignazio e il Presidente Giuseppe Di Pangrazio. E' proprio quest'ultimo a entrare nel merito dell'iniziativa. Abbiamo deliberato in ufficio di presidenza tre grandi linee. La prima è rifinanziare la legge 49 del 2017, finanziamento piccole e piccolissime imprese dei comuni del Cratere, quindi del Terramano, dell'Aquilano e del Pescarese. La seconda linea è quella di rifinanziare di nuovo la legge 55 per tutto quel microcosmo di associazioni culturali che rendono l'Abruzzo attraente per tre anni, 100 mila euro l'anno, per dare opportunità agli studenti di avere un minimo di agevolazione sugli abbonamenti che utilizzano attraverso il nostro trasporto pubblico locale la tua. Le 427 abitazioni che la Regione si accinge ad acquistare per destinarle a una parte dei terremotati hanno un costo superiore a quello di mercato. E' quanto sostiene il consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. L'intervento che noi chiediamo, importante da parte della Regione Abruzzo, che sia a fianco alle amministrazioni comunali e ai cittadini in maniera particolare, perché non può essere che se non si fa una manutenzione a valle, poi i costi ricadano sulle varie amministrazioni comunali della fascia costiera, del Terramano ma anche del Pescarese. Questo è il contenuto della lettera che il consigliere Giorgio D'Ignazio insieme al collega Luciano Monticelli hanno indirizzato al Presidente della Regione a difesa dei comuni della costa abruzzese colpiti dai recenti nubi fraggi. Piogge intense che hanno riprodotto un fenomeno annoso come quello dei rifiuti spiaggiati. Nella lettera si ricorda come la scarsa manutenzione degli alvi fluviali finisca per danneggiare le spiagge delle località costiere dove si accumulano quantitativi incendi di detriti e di materiale legnoso. Una passerella politica mentre il mondo agricolo attende ancora delle risposte. Così Mauro Febbo sulla inaugurazione di due nuove centraline del Consorzio di Bonifica Sud. Si è riunita in seduta straordinaria la Commissione Sanità presieduta da Mario Olivieri per procedere alle aduizioni del Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Angelo Muraglia, e dei sindacati sanitari abruzzesi. In relazione allo stato di agitazione per la carenza di personale nelle AS provinciali e con il Comitato Civico di Salute Pubblica per esporre la situazione dell'ospedale clinicizzato di Chieti in ordine alla realizzazione del DEA di secondo livello e all'atto aziendale dell'AS del Lanciano vasto Chieti. Su questo argomento dibattuto in commissione il Direttore del Dipartimento della Salute precisa la posizione della Regione Abruzzo. Noi abbiamo dato atto e seguito al programma operativo 16-18 che è stato decretato con il decreto 55 del 2016, laddove si sottoscriveva che sarebbe stato fatto uno studio di fattibilità riguardo al DEA di secondo livello sui due presidi ospedalieri più importanti della nostra Regione riguardo soprattutto alla densità di popolazione, cioè quello di Pescar e quello di Chieti. Quindi era scritto nel programma operativo, si è dato seguito al programma operativo, è stata istituita la commissione, la commissione ha lavorato e ha praticamente prodotto un documento che è stato portato all'attenzione della politica sanitaria e è ricepito poi con delibera di giunta. In questo documento si dice che i due presidi devono essere interconnessi funzionalmente. Esperimenti nel laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso. Approvata risoluzione del Movimento 5 Stelle, mentre il consigliere Bracco chiede la convocazione di un consiglio straordinario. È tornato a riunirsi il Consiglio regionale. Tra i provvedimenti approvati lo statuto dell'Ater dell'Aquila e quello riguardante l'adozione della Carta delle Valanghe. La prossima seduta dell'Assise regionale è in programma martedì 28 novembre.